Anche oggi sono qui con voi e i miei amici sia Galas che Parisi volevano sapere se respiravo bene e anche per voi sto benissimo e respiro bene. Ma qualcuno vuole sapere come avviene questa trasmissione, dove avviene, come avviene. Allora se vi interessa sono seduto su uno sgabello, dopo che mi hanno preparato, prima mi hanno dato un goccio d'acqua da bere, poi mi hanno fatto spegnere il telefonino, poi mi hanno messo l'apparecchietto qua con raccomandazioni di non toccarlo, poi devo stare dritto e retto, poi ho dovuto levarmi un giacchetto perché l'altra volta ce l'avevo, questa volta un giacchetto, non so se questa maglia è uguale a quell'altra volta, comunque veniamo all'argomento. L'argomento sono le trasmissioni televisive, quelle che si chiamano linea diretta, virus, ballarò, la gabbia, report, piazza pulita, quinta colonna, di martedì, eccetera, eccetera. Questi tipi di trasmissioni io da un po' di non le guardo più. Allora, ma come mai non le guardi più? Non le guardo più per un semplicissimo motivo che lei è una catastrofe dietro l'altra, non va bene niente, tutto va male, tutti roba, eccetera, 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 eccetera. È vero, però a me non risulta che sia tutto così, non è vero, non è vero, perché io conosco un'infinità di persone oneste, persone che lavorano, persone che hanno voglia di fare e non c'è in giro tutto il catastrofismo che viene presentato in queste trasmissioni. Allora, se si facesse invece una bella trasmissione dove si mette in evidenza una fabbrica che c'è tra Mezzocorona e Salorno, c'è una fabbrica che fa quelle ruote grande sui quali gira il filo delle teleferiche. Allora, vedendola lontano, uno le vede, invece hanno delle dimensioni anche di 3-4 metri di diametro e vengono fatte in questa fabbrica. Io sono rimasto non meravigliato, ma esterefatto. Se per caso uno di voi va verso pietra murata e passa davanti a una casa c'è su scritta figliatura. Se per caso uno ha la figliatura e vuole sapere che cos'è, entra dentro e vede che cosa c'è dentro, vede che attrezzature e che modernità di comportamenti che ci sono. Allora, io ne ho citate due, ma potrei citarvele tantissime altre che ho visto. Ma perché non facciamo una trasmissione che si chiama il meglio? Siamo invidiati da tantissimi stati, siamo invidiati per tantissime cose. Allora io dico, queste trasmissioni è ora che cambino registro, secondo il mio parere. non parliamo dei soliti, come si può dire, interlocutori, aiutami Parisi, i giornalisti che vengono, ma non sempre giornalisti, anche per commentatori, mi suggerisce Gallas. Allora commentatori, opinionisti, eccetera, eccetera, eccetera. Così a mente, vediamo un po', travaglio, Scanzi, Santanchè, Mieli, Belpietro, Sallusti, Cacciari, un altro Petro, Sgarbi, poi un altro con la barbetta, Damiano, Damiano. Poi ce ne sono tantissimi altri, le sempre quelli. Adesso sentiamo Damiano. Sgarbi ormai lo conosciamo perché quello va con la M e ormai sappiamo che il suo frasario è quello. Cacciari, sì, vabbè, ha tutte le soluzioni. Mieli anche. Io sono stufo di vedere questa gente, perché non mi vanno per la strada e mi prendono. Scusi, lei che cosa fa? Il muratore. Vediamo con Milu che andiamo a parlare nel cielo. E domandate al muratore cosa che la pensa, magari in dialetto. La gente è stufa, personalmente, però dopo un po' di tempo sapete che mi sento le mie varie donette. Mi pare che anche la Ada, anche la Pia, non è l'azienda grande televisione di questo genere, ma altre persone che non sono le mie solite fans, sono stufi di vedere queste trasmissioni che sono fatte sempre con i soliti argomenti e sempre con i soliti personaggi. Allora io sarei dell'avviso di fare questa trasmissione. Allora voi dovreste farmi un piacere chi mi ascolta. Comunicate a Galas le cose che vanno bene e non solo le cose che vanno male. Gli insegnanti dovrebbero essere tutti cose, la scuola non funziona, ma risulta che ci sono bravissime scuole. Al sud va tutto male. Non è vero. Non è assolutamente vero. Vi do l'esempio. Stanno prendendo una società che so io, da Potenza. Avete presente il Docalè Potenza? Bene, stanno prendendo dei prodotti caseari da un'azienda agricola Modello. Dico parlo di Potenza, ma parlo di Zoo. Quindi non è vero. Io sono stato per esempio l'anno scorso in un villaggio nel Salento a 10 chilometri da Santa Maria di Leuca, punzone così, non si può andare perché dopo si va in Egitto e in Africa. Un'organizzazione, persone brave. Sono andato in un paese a vedere che lì è Marina di Ugento. A Marina sono andato a vedere questo paese. Ma io ragazzi sono rimasto stupefatto. Dei giovani a Marina di Ugento hanno messo insieme un museo bellissimo. Tutto nuovo l'hanno fatto loro. Ma dico perché la signora Santarchè, anziché essere lì, non è stata una banda. Perché è da Milano, anziché essere lì, è va fuori dai baloni. E noi andiamo a vedere queste cose positive. La trasmissione la finiamo facendo un grandissimo augurio. E anche non essere tristi perché secondo i contadini si dice che gente allegra, il Ciel l'aiuta.